La priorità credo che sia iniziare a pensare l'Abruzzo come una cosa unica, un Abruzzo forte, una regione unica e forse anche un gestore unico. Il presidente della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica Sara Marcozzi è chiara proprio come l'acqua. Nei due mesi di incontri con i dirigenti delle sei società di gestione del sistema idrico abruzzese è stato fatto il punto sulle criticità riscontrate e segnalate. Tema di fondo la dispersione idrica a causa di reti colabrodo ma anche di consumi non fatturati. Caso emblematico quello di Chieti dove sono stati individuati oltre 100 allacci pubblici non fatturati. Riorganizzando il tutto dunque facendo tutti i lavori che il PNRR ci consente di fare con milioni e milioni di euro e dunque riparando le reti, digitalizzando le reti, fatturando quello che non è fatturato e dunque disperdendo meno di quanto ci ha detto l'Istat che disperdiamo punte fino al 70% nella nostra regione purtroppo nella città di Chieti potremmo servire un altro milione di persone. Dunque un altro Abruzzo. C'è poi la dispersione energetica che non ha risparmiato le società di gestione. Si pensi al Consorzio Acqueduttistico Marsicano che dovrà pagare circa 10 milioni di euro di bollette. E infine la dispersione del capitale umano. L'ultima dispersione è di forze nel senso che ci sono alcuni gestori che sono sostanzialmente sotto organico altri gestori che forse sono sovra organico per cui anche riequilibrare la forza lavoro, le risorse umane di tutti questi gestori potrebbe essere utile. Dopo questa prima fase di audizioni se ne aprirà un'altra che vedrà coinvolte le amministrazioni del territorio e le associazioni di cittadini. Il via mercoledì prossimo con la convocazione dei presidenti delle assemblee dei sindaci guidate dai presidenti di provincia.